I voti, i 40 erotti, li ha presi il PD o li ha presi Renzi? Li ha presi il PDR, cioè il Partito Democratico di Renzi, che è un'evoluzione del PD secondo me. Ma stasera lanciamo il PDR? L'ho scritto un pezzo per domani, ma perché il PDR? Perché è il Partito Democratico alla maniera, come dicono i grandi chef, alla maniera di Renzi. Cioè è un partito sicuramente progressista, voglio dire che fra l'altro è il più grosso partito all'interno del Partito Socialista Europeo. Nella grande famiglia del Partito Socialista Europeo il PD italiano è oggi il principale partito.